bella un attimo che mi arriva la notifica della chat e poi ecco qua mi è arrivata anche la live no fuck c'è un errore come c'è un errore ancora non l'hai inviata non l'hai iniziata la live certo che l'hai iniziata si sente lo sento io allora cambia account adesso andiamo in un altro account che ho creato e vediamo se sono dal vivo si è il libro se c'è vai facciamo iniziare facciamo il gambe ciao kree ciao puoi sentirti lei è un po in ritardo e lo so in ritardo di 16 secondi metti l'audio del gioco sulle cuffie perché ti si sente proprio dalle casse appunto nelle aspetta com'è che faccio devo fare un casino tremendo no no di paluca di paluca che si sente dalle casse aspetta un attimo va bene ok facciamo una squadra però ok ok vai padre è bello vedere qui live e poi io mi voglio il bello non sono neanche pronto vabbè però se mi puoi fare un piacere potete non commentare perché mi fate un bordello incredibile sulla play no ve lo dico mi o mi tocca bloccare la la chat perché fa un casino tremendo casino tremendo è arrivato adesso ok va bene ti piace il mio piccone oh siamo bella per nono ninja aspetta eh nono le fibre vai boys andiamo qui ok lande prende uno via magari faccio una cosa la personata strema anch'io eh stremiamo tutte e tre insieme ma si ma tanto ma si ma tanto eh va bene c'è anche la webcam eh va bene sarà la c920 dei cinesi tipo no c'è una che mi sa che mi arriva tra due settimane dall'Olanda non so che quale io prendo le due ceste della runa ma io vado a casa no con quattro aspettatori insomma e l'altro vabbè uno so io tra cui ecco uno a sia vabbè parte quello 5 commenti no fuck tra l'altro raga non ho messo il robo incluso no mi son glitchato no dove aiuto oh fuck rompi la rampa lo so raga incredibile ma sta diventando più popolare sta live dei video raga doppia pistola silenziale non mi batterete mai ma io che io capo a un particolare tu hai più iscritti infatti final live no a parte a parte quello capace se guardi un attimino al mio personaggio questo momento non ha fatto di mio lavoro ha tipo failato il oh boy c'è il pesce oh dove dove qua dentro la casa eh allora aspetta che lo prendo subito dentro la casa allora perchè no no sta lo spacco no dai oh dov'è questa stasi 10 secondi in ritardo comunque la live ah grazie cinque spettatori no dai io no 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 vabbè sarebbe se stessi fermo intanto cosa vabbè molto più molto più nobbo eh lo so vai a farmi un po' di materiali eh in caso dei pericoli sì allora ti va bene se porto una pistola silenziata rara oh no perchè ho la r verde il taccio verde la mitraglietta comune no e se qualcuno trova delle granate pozzolente me lo puoi dare una che devo armi danno però ma quanti spettatori hai eh per il momento aspetta un attimo che vado a vedere sei oh ma no dai quinto male vabbè vabbè eh due siete voi eh ok voi una è il mio perchè devo vedere la chat ok quindi sa sono in cinta però ah uno si è disconnesso l'ha staccato una è nono ninja ok ciao nono ninja adatteggio di ciccio gamer ce lo chiamo tu vi chiedo una roba se potete smette e il senso della chat sto dicendo se potete smettere di commentare perchè ha fatto il casino sulla play tipo mi arriva la notifica con eh vabbè siete mongoloide che è che continua a commentare detto smettete di commentare e arriva il messaggio io ho messo un messaggio dai dai io crei basta dopo ti intaso la play ti spam eeeh c'è la play si io c'ho la playstation ho sbagliato magari hai messo una playstation ok no non puoi saltare nooo ti spammo anche io dopo nelle tue live vabbè vabbè ti metto la moda in Italia vabbè ti metto la moda in Italia facciamo ariamo i campi hai capito ok io c'ho 15 di bende io non ho niente proprio eh io ce ne ho 10 di bende è una slur ma basta ma cos'è il messaggio che è che ti chiama ma che ne so ma ci avrai scritto il numero c'è scritto no eh allora ce n'è il numero no ma neanche non lo so mi arrivano notifiche eh ce n'è il blu ho trovato ce lo vuole qualcuno qua eeeh il gioco è quello verde la prendo io ti metto dietro o magari la metto io dai dai ieri vuoi in r blu la piglio ce l'ho vabbè vai vai prenderlo ok ok vedete un attimo allora chi è che vuole una minigun? io no io no io no oh altre bende ok per la pelle d no fuck eh chi è che prende chi è che stacca la slur eh chi è che stacca il slur io no io non ce l'ho qualcuno un tac un singolo bianco ah ah vuoi il tac bianco o il singolo blu? eh sì un tac però meglio con quello eh allora io lascio le quattordici bende se le riesce a prendere qualcuno oh le riesce a prendere le riesce a prendere le eh non lo so cazza non lo so perchè io ho portato già gli scudini oh guarda raga eh te luca che armi hai? eh che roba hai? riesce a prendere delle bende allora ar verde tac verde no no non armi ah quindi ci bende ah quindi ci bende ok va bene ce l'ha già lui allora ehi guarda scatta eh tratto c'è la scia di marzapane di di foglie guarda eh magari forse convene andare perchè tra poco c'è la tempesta quindi no 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 un minuto quaranta ah di come scuola andiamo andiamo la zona prendiamo la zona qua mm a 2031 dai ah vabbè che io son messo male però c'è un pecoci per la montagna aspetta 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 e qui seguimi che li andiamo a prendere seguimi attimo attimo team da due sopra la montagna no no qua sono posso prenderla runa o mi vedono eh vabbè no dai ho stato solo in due cattaccia noi siamo in tre cosa c'entra ho assisti ho fatto no ma come cazzo ho fatto a prendermi aiuto bloccato no raga che cazzo è successo eh vabbè raga è successo una roba bruttissima sono sceso questo ecco era quello lì streamer by the way vabbè 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 niente praticamente streamer by the way streamer by the way streamer by the way che giocate ah vabbè no 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 prendiamo prendi la runa prendi la runa eh ma aspettate un secondo devo inserire tutti i anni 55 ho fatto però dobbiamo runnare super fast mi stai guardando? si ma com'è qua ma te sei morto tipo? io sono morto ma sono morto perché tipo questo stavo ricaricando l'arma mi giro e me lo ritrovo no fuck e poi il bello è che non mi lascia neanche vivere no mi ammazza con il caccio col caccio ma io credo che c'era il bar no eh tipo mi ha preso in testa col caccio adesso proviamo a giocarcela un po' dai sei vero avrà avrà mirato poi mi chiama prima attenzione attenzione c'è uno verso 54 attenzione eh sto streammando se vuoi partecipare no ok va bene ciao torca voglia via 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 io raga oggi mi ero anche avvantaggiato c'è tipo oh oh ti vanno male aspetta oh porca voglia no il signor gatto is knocked no luca ti prego no no ma non mi veda no no ma mi proprio tutti i colpi mi prendi in testa questo eh calamity by the way cosa ciao francamente non capisco perchè cioè o questo sale è in botte o non lo so aspetta mi è arrivata una nuova notizia acquistando il pacchetto il questo pacchetto zero assoluto c'è il 1000 vbac ah beh sì ma era una roba già che avevo visto si lo so zero assoluto se come io ho 30 euro se la shop no ma va 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 ma io non lo compro neanche molto c'è per carità se la mettono nello shop con tutta la roba e ho i vbac necessari cioè un piccolo è bello poi l'altra roba fa sì no anche deltaplano non è male anche i vbac non sono male eh i vbac non sono mai male diciamo che la skin è identica all'altra a parte quella ma fa cagare cattà cattà mhm mi dici da che canale eh il nome del canale da cui stai streamando eh lo stesso che torniato delle cose vuoi dire di migliore la live vai passa un'ora boom ho inviato il file ok adesso si sente doppio si è capito però dove andiamo non è messo il segno a rifugio e sto andando a rifugio ok però Luca abbassa il volume sì sì no l'ho messo un po' lontano si sente tipo doppio eh sì lo so crei come si fa a fare da moderatore eh eh deve andare non lo so non lo so adesso provo a dare un occhiale c'è un tipo al villone gigante vedevo farmi la torre ok allora io vado nelle casette qua spero di non incontrare buttati con i palloncini catta niente hai visto anche da me atterrato io ho una doppietta un tiro uno era abbastanza rambino aiuto aiuto stanno facendo atterrare no dai cazzo eh di niente non avevo guardi raga dove che sono sì ma che che cacchio di nome è 9 7 8 0 7 5 cosa 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 a parte che lagga un botto lagga un botto lagga un botto questo lagga un botto un codice fiscale questo allora io io adesso prendo il telefono e lo chiamo mi interessa no io ti giuro lagga un botto non lo riuscivo a prendere tipo io lo chiamo andava a scatti andava eh lo so ma dove sta dove sta sta lì alla torre sta ok va bene bello che non l'ho luttata tutta c'è tipo un'altra cesta lì sopra ma gli hai fatto danno? gli ho fatto danno gli ho fatto 60 o 90 con l'assalto bianco ma questo tipo da distante mi ha fatto un headshot eccola lì non era quello forse è quello comunque è un default allora vediamo un po' a chiamare questo qua grazie ecco la cosa è bello aspetta no è quello che hai atterrato l'hai atterrato il codice fiscale e l'altro suo compagno era un male ma da me c'è scritto recluta 301 ma perché? eh non ne so è un bug mi prende la rede grazie mille ok il numero è il desistente vabbè ho aspetta cattia aspetta devo mettere che schi metto? io metto quella di forte va bene metto un comando col piccone lascia il piccone del atta metti no facciamo il treo dei default no 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 non ci sto allora metto il default ma come faccio negli altri video allora metto allora metto la valkyrie metto questo mantelino qui metto il default e il pro ma abbastanza ok tra l'altro adesso siamo solo un spettatore che sarei io sarei io perché sto tipo usando la chat per vedere se mi arrivano messaggi perché se no se io tipo entro con un altro account mi si glitcha la roba hai messo tu like kree si si aspetta che te lo metto aspetta fammi vedere fa vedere e ci sono due like uno l'ho messo io che è l'auto like uno l'ho messo io allora allora io mi sa che non l'ho messo cioè o l'ho messo che adesso vi bind no non l'ho messo fa ecco messo allora vi posso dare un consiglio come negli altri video io di solito vado sempre qui c'è un buon lutto se vogliamo andarci andiamo vai andiamo tipo ho fatto una partita in singolo non l'ho registrata però ho fatto una partita in singolo e praticamente è successo che ho trovato tre armi una doppietta leggendaria uno scar silenziato leggendario e una cappa leggendaria dopodiché l'ho ritrovata un'altra volta la cappa adesso adesso tipo cicchillano in volo eeeh no dai tana io vado a messa casa io vado alla piscina io vado al campetto qua ok wiii oh t90 e di cassa non ne vedo manco io venga a me c'è solo una pistolina silenziata blu eh mi sa che l'ho buffata oh no scar silenziato ok vabbè chi è che vuole chi vuole un tattico bianco chi vuole un tattico bianco io no di sicuro ok beh sei solo alla pistola verde o bianca cosa chiedo e forse ti conviene vabbè guarda che ce l'ho già il tattico bianco ah vabbè allora io ho rampito ho un tattico bianco e scar silenziato epico guarda che lo dita oh anche cosa guarda uiii c'è bello sto formando la legna sto vedendo eee raga ma nel nel corso com'è che si sente nel video com'è che si sente si sente l'audio no dico si sente nel senso si sente l'audio come sto parlando in questo momento e il video ritardato o si sente tutto ritardato di 16 secondi no 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 è proprio è proprio il video lo streaming che è ritardo sia video che audio no no quello lo sapevo no comunque va bene se ne avete una r per casa io si ne ho una bianca una bianca dopo lo scar però mi serve allora vado un attimo ad aprire la cesta alla casa vedo se ti trovo qualcosa di meglio di un'r bianca perché ho solo l'r bianca e lo scar silenziato e vabbè dopo il tac ciò non è un'r bianca allora ti ho trovato un'r bianca r bianca rampino qua jump jump tu hai il p90 io si allora c'è i colpi piccoli se li vuoi se no se trovo vai passo l'r bianca un attimo io la cosa la mitraglietta non me la prendo c'è un rampino se lo vuoi e dove sono i colpi dai no i colpi non te li lascio metti in caso trovo la mitraglietta io la uso la mitraglietta se poi dopo trovo il cecchino te la lascio ah ok ma se trovo mitraglietta tipo fra un po' il risale come non ne ho pochi c'è ma è un attimo che si sta portando ah ci sono mini scudini e bende mi puoi lasciare mini scudini e qui ci sono due carte ehi tu mi puoi lasciare mini scudini no li sto staccando e dove ce n'ho 4 ce n'ho 4 dove che li hai lasciati no ce li ho qui eh me li puoi lasciare che non ho lo scudo due tipo aspetta aspetta che c'è gente ti tenta con la borsa in testa io no non l'ho mai capito è un attimo è un attimo è un attimo si spara eh ora sta a vedere che mi itano a me eh basta che mi dà i colpi della R si si se l'hai i colpi della R eh si ce li ho mi servono però eh io ce l'ho 0 io lo sto andando a prendere cosa? ah se adesso ti vengo ti vengo a dare una mano se forse riesco ovviamente è sopra di noi tempi raga eh vai 60 coltato 64 in testa riparto ma schifo cosa cosa la lancia razza la vela c'è morto raga 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 c'è morto oh ma non mi lasciato un cazzo mi lasci due mini scudini ti lascio un po' di colpi per le R a parte che non ne ho molti però eh no mi serve quel lancia razzi e non ce l'ho capito dai però c'è la Christian io posso siano un po' io ho due razzi raga eh niente ah ti ringrazio ok raga eh vabbè questa era una buona o adesso c'è un po' di colpi per la R e adesso dove andiamo? boh e lo luttiamo un po' faccio un accesso ok e se trovi dei mini scudini me li farsi no ho trovato il rampino mini scudini li ho trovato bene qua ah no proprio quelle no bene bene sono fatti qua non c'è niente qua non c'è niente eh eh sono un po' lontano frario ma ti piacciono i miei clean shot chi è che stava buildando? io io ok dove sono io in così eh vieni da ah si aspetta ah ah che dai oh oh hai sprecato un caricatore intero eh mi sa ne ho sprecato ho sprecato 14 colpi no sono pochi eh beh 14 colpi sono pochi qua so io andrei in safe un consiglio è leggermente un po' distante metà mappa tipo eh sì raga raga venite qua che c'era un porca boia eh niente qui è un po' si macrino magari sono no sta sopra sta sopra parca boia guarda questo parca boia eeeh forse una manina magari cazzo se riesci per questo ci ha lanciato un po' oh bravo cazzo eeeh se è giusto così mi riuscisse ad avere una mano eeeh eh sì senza fare il napo carta muoviti grazie c'è una zampa è comunque ok allora andiamo e poi io ci ho reso di gioco raga e allora usiamo Riftugo usiamo Riftugo che è meglio eeeh 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 raga eeeh luogo qua raga lo sanno per vostra preme eeeh 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 a 4 guarda 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 io ho poco niente qualcuna scudi no vabbè comunque c'è gente eh vabbè andiamo in zona questa è molto veloce c'era c'era col quad c'è uno che mi ha iniettato c'è uno che mi ha iniettato mi ha lasciato scusa e da dove? e da dietro da tipo 270 ah visto ho visto i colpi allora ah si visto sta sopra la cosa ah ho visto ok raga ma tanto è visto raga è alla casa è alla casa di legno se noi lo teniamo lì guarda che sta saltando 23 è andato sotto è in uno mi sa eh mi sa che è in uno quello eh prendiamoci raga ce lo prendiamo tanto quello in uno eccolo sta andando sta uscendo da strofondo usciamo anche noi che qui non è buona eh sta usando i palloncini sta usando eh vabbè gli ho tolto già 23 mi sembra abbastanza scarso ma come come player si vabbè di sicuro uno con i palloncini non è che sta andando forte cioè soprattutto perchè mi sa che è un po' un po' messo male dato che comunque con i palloncini mi sa che non si possa riparare no per lasciare di dare 30 scudo bravo cosa aiuto raga no mi hanno atterrato a casaccio bravi l'avete ucciso attenti che c'è altre gente buildate raga dai dietro dai dietro mi puoi aspetta cri cri in giro come comanda raga ok 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 ma come si è